Anche stanotte si registra l'ennesimo furto in città, rapinatori solitari, entrano, rompono le vetrate e prendono i soldi dalla cassa. Quello che dice effettivamente si è verificato. Con l'attività investigativa e con i servizi di prevenzione abbiamo buone possibilità di individuare gli autori che sono degli sciacalli che comunque vanno a rubare nottetempo. L'invito che faccio ai cittadini, già lo fanno, Salerno reagisce molto bene, è quella di segnalarci anche in forma anonima la presenza di persone sospette. Nessuno vi chiederà il nome e cognome. Furti che avvengono a mezzanotte piuttosto che a luna, anche in orari, tra l'altro dove c'è anche un buon flusso di persone ancora in strada, automobilisti in transito. E' proprio per questo che ci sono gli automobilisti in transito. Io mi aspetto una collaborazione ulteriore da parte dei cittadini perché polizia, carabinieri e guardie di finanza presidiano il territorio, il controllo del territorio è effettuato in maniera esemplare. È solamente che magari la volante viene vista, il radiomobile viene vista, appena passa fanno il furto. Quindi invito ancora di più l'attenzione dei cittadini a darci la massima collaborazione. Si pensa alla sicurezza, si guarda ora al derby con il Napoli, come si sta preparando la città e soprattutto quali sono le attese? Le attese sono innanzitutto che venga fuori una bellissima partita, un incontro che è atteso da tempo. Io dico sempre, siamo le uniche due squadre meridionali e militari in Serie A, quindi diamo al massimo la nostra attenzione alla socialità e alla sportività dell'evento. Grazie per la visione!